coach barbiere arriva alla prima sconfitta interna per il volle soverato al termine di una partita rocambolesca se così si può dire si perde al tie break dopo essere stati anche in vantaggio nel 2 a 1 e anche nel quarto set questa volta la rimonta non è riuscita alla fine del quarto set e l'avevamo detto è stata una bellissima partita penso intensa poi alla fine il quarto set si è deciso per degli episodi e ci stanno loro hanno fatto vedere la loro esperienza perché bachica e aline paris nei momenti che che contavano secondo me hanno avuto quelle quell'esperienza di saper gestire alcune situazioni che noi non siamo stati stati capaci di gestire ecco però è andata bene così devo dire che è stata una bella partita perciò con nel complesso abbiamo preso questo punto che comunque per noi è importante contro una squadra di questo calibro si come sempre poi dopo uno va a vedere gli episodi quando la palla danza sul nastro la palla del set ball del nostro match ball del 3 a 1 uno ti lascia un po lì però questa è la palla vola alcune volte successo per noi e bisogna prenderla per quello che è fino alla metà del quarto set probabilmente si aveva la percezione e la sensazione dall'esterno e forse il soverato avesse la partita in mano poi però qualche errore di troppo anche c'è stato sì abbiamo avuto non tantissimi erano 3-4 punti di vantaggio abbiamo fatto un paio di errori con i nostri giocatori quelli che diciamo non devono rischiare però lo sapevamo sapevamo che loro non sono mai morte perché l'hanno fatto a Cuneo l'hanno fatto con tutte le squadre di calibro di arrivare al tie break perché come già detto prima l'esperienza delle loro giocatrici si è fatta valere noi al momento abbiamo giocatrici che non hanno ancora questa esperienza si devono fare sono giovani arriveranno però gli manca ancora un attimino di esperienza con il coach dell'Olimpia Teodoro Ravenna Simone Angelini commentiamo questa bella vittoria qui a Soverato due punti pesanti conquistati sul campo della capolista e su un campo notoriamente difficile al termine di una partita rimontata sul Soverato siete stati bravi sicuramente a crederci anche nel momento di difficoltà del quarto set sotto 2-1 sicuramente vincere qua sarà molto difficile per tutti e penso che lo faranno in pochi sono due punti straguadagnati eravamo praticamente sotto al quarto set bravi e fortunati l'abbiamo portato a casa e siamo stati secondo me ancora più bravi che sotto al quinto siamo riusciti a ribaltare la situazione e portare a casa due punti perché potevamo sederci potevamo rilassarci e pensare di aver portato a casa un gran punto invece ne ha portato a casa un altro che per noi per la nostra classifica farà la differenza perché fare punti qui come ho detto è difficile e noi un po' di punti in giro l'avevamo persi al contrario di Soverato che ha sempre portato a casa buonissimi punti e per la nostra classifica questo punto qui aggiuntivo farà secondo me la differenza ecco proprio questo da rimarcare il grande carattere e la reazione della sua squadra che anche al tie break era partita male sotto 3-0 frutto di tre attacchi sbagliati consecutivi però la squadra non si è disunita in questo momento di difficoltà indice del fatto che gli elementi di esperienza che può vantare questo roster possono aiutare molto in questi momenti l'esperienza serve a quello dai alla fine penso che avere due o tre giocatrici con un grandissimo passato e anche un ottimo presente faccia veramente la differenza nei momenti in cui la partita è ai punti finali e quando la palla scotta diciamo che non è che abbiamo la palla garantita con Cajalini e Bacchi però hanno una grossissima esperienza e quindi ne hanno giocate talmente tante che in certi momenti la differenza la fanno Siete una matricola di questo campionato ma il roster è di tutto rispetto allora le chiedo infine gli obiettivi di questo Ravenna per questo campionato e se è soddisfatto sin qui del cammino svolto in queste prime 12 giornate di campionato Beh allora soddisfatto sicuramente sì ho detto alle ragazze che pensavamo a una partita alla volta e abbiamo pensato a una partita alla volta fino a qualche giornata fa quando ci siamo guardati in faccia abbiamo detto mancano nove partite, otto partite non mi ricordo qual era la giornata però mancano tot partite adesso siamo settimi e puntiamo a star nei primi otto per la Coppa Italia quindi l'obiettivo è che a fine giro dell'andata cerchiamo di essere nelle prime otto per giocarci un turno di Coppa Italia e poi vedere come va